quali saranno le novità della prossima espansione di flash and blood quando sarà prevista la sua messa in vendita e quali altri eroi ci aspetteranno nel video di oggi troverete la risposta a queste domande signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale in data 26 aprile la legend story studios ha annunciato l'arrivo del settimo set di carte chiamato uprising ambientata totalmente nelle terre di volkor una sanguinaria guerra civile proietterà ogni singolo combattente nel pieno dell'azione attraverso un nuovo vasto assortimento di carte che riserveranno splendide sorprese ad ogni appassionato di fab tra nuovi blitz eroi che sorgeranno per giungere alla gloria eterna e nuovi alleati che correranno in vostro aiuto durante le numerose battaglie che affronterete saranno diverse le nuove frontiere che grazie a questa espansione vi faranno immergere ancor di più nelle dinamiche di questo gioco prima di iniziare però so che molti di voi guardano i video dell'arconte del crogiolo ma non siete ancora iscritti pensate che se tutti voi vi iscriveste ora potremmo raggiungere oltre i 10.000 iscritti quindi il vostro supporto è fondamentale dateci una mano inoltre vi invito ad attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici in più per i combattenti pugliesi volevo segnalarvi la presenza del gruppo whatsapp flash and blood puglia dove potrete trovare tutte le informazioni necessarie per partecipare agli eventi organizzati dalla community locale o pubblicizzare il vostro personale torneo così da renderlo noto a quanti più giocatori possibili che si troveranno nelle vostre vicinanze come sempre vi lascerò il link in descrizione ed ora scopriamo cosa ci attenderà nella regione infuocata di raid in questa panoramica dedicata ad uprising il settimo set di flash and blood andiamo a dargli un'occhiata nuovi campioni volkor è un territorio dove fiumi di lava e sempiterni zolfi caratterizzano le desolate lande dove la vita non è di certo una passeggiata per questo i volcai gli indigeni della zona si preparano ad affrontare ostacoli ben più pericolosi di qualsiasi nemico con sembianze umane proveniente da chissà dove tra le loro fila di combattenti addestrati alla guerra fai e dromai hanno dato prova di essere l'elite spiccando per personalità intelligenza e conoscenza delle strategie militari ebbene con l'arrivo di uprising potrete vestire i loro panni e dare il vostro contributo alla guerra civile grazie ai due blitz deck che includeranno come sempre 40 carte più una carta eroe con finitura rainbow foil con annesso equipaggiamento ed arma al costo indicativo di 11 euro e 99 questi mazzi saranno il perfetto articolo per chiunque vorrà muovere i primi passi su rate giocando in modo rapido e veloce in qualunque momento è da notare inoltre che entrambi questi campioni saranno disponibili anche in versione adulta per iniziare a combattere le prime battaglie anche in classic constructed in una regione totalmente avvolta dal caos della guerra interna tra fiamme e fuoco anche il ghiaccio ha trovato il suo spazio infatti icelander è ufficialmente entrata nel mondo del classic constructed avendo finalmente la sua versione adulta pronta a ghiacciare l'intera arena di combattimento subendo anche una rivisitazione della sua art nel formato blitz l'effetto sarà sempre quello cambierà solamente la sua art che la vedrà indossare vesti più comuni piuttosto che vestita di tutto punto come siamo stati abituati a vederla nell'illustrazione di steve argyle in più potrete trovare delle prime anticipazioni sulle carte contenute nel set che in cinque giorni hanno svelato quali saranno le armi a disposizione della stregona elementale che ogni combattente potrà utilizzare a suo piacimento all'interno del proprio deck vi lascerò come sempre il link al sito ufficiale che tratterà questo aspetto nel dettaglio in descrizione arrivo delle marvel e prime anticipazioni come è stato già detto in un video passato sul canale con questo set arriveranno anche le cosiddette marvels una di queste sarà il drago dracona optimai che assieme a dominia e tomeltai che dite quello che volete ma è proprio deathwing di world of warcraft formeranno il primo trittico di draghi in assoluto mai apparso nel gioco in più queste tre creature leggendarie potranno aiutarvi negli scontri che dovrete affrontare scendendo al vostro fianco sul campo di battaglia possedendo un quantitativo di salute che dalle prime anticipazioni possiamo vedere a girarsi sulle sei unità in più avendo ogni drago anche un valore di attacco sicuramente si potranno scagliare contro il nemico rappresentando una minaccia in più ogni volta che faranno la loro comparsa le domande che mi sono posto a questo punto sono state molteplici e tra queste alcune sono spuntate più forti e bisognosi di risposte si potrà utilizzare l'alleato sceso in campo come se fosse un'arma si potrà costruire un deck attorno a questa nuova dinamica quale sarà l'effetto degli altri due draghi che ancora non sono stati svelati a livello di torneo si vedrà un cambiamento netto riguardante il meta e quali saranno le altre marvels dato che non c'è stato un numero ben definito riportato sul sito ufficiale non ci resta altro da fare che aspettare e fortunatamente sarà un'attesa breve per ricevere un riscontro definitivo da parte della casa madre addio unlimited questa inoltre sarà la prima espansione di fab a non avere una versione unlimited introducendo il fatto che ora tutti avranno la stessa possibilità di trovare una cold foil nel proprio box ciò manterrà il prezzo del singolo articolo almeno agli inizi sicuramente calmierato dato che non essendoci versione dedicate a singole categorie collezionisti e giocatori ciò non vedrà una corsa all'oro che in pochi istanti potrebbe esaurire le scorte di prima edizione in attesa dell'uscita in mercato della versione unlimited quindi combattenti di tutto il mondo questa volta anche voi potrete mettere le mani direttamente dal day one sul vostro box e sbustarvelo con tutta calma a casa o in fumetteria godendovi appieno l'esperienza del contenuto che ogni singola bustina avrà da offrirvi concludendo il set sarà composto da 226 carte più un numero indefinito al momento di meraviglie dove per ogni box saranno presenti 24 bustine realizzate con materiale 100% riciclabile dove all'interno potrete trovarci 16 carte cada una il prezzo indicativo del box sarà di 99 euro e 90 e la sua data di uscita è stata prevista per il prossimo 24 giugno attualmente comunque sono già state lanciate delle prevendite che dando uno sguardo sulla pagina di flash and blood italia link in descrizione riuscirete a cogliere e voi proverete a islander fai e dromai come campioni nell'arena nel formato classic constructed e blitz e prenderete parte alla guerra civile acquistando un box di questo set come sempre fatemelo sapere nei commenti mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei tcg vi ringrazio per essere stati in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video